Manso Gallo e compagni, tutti l'aspettano, hanno fatto un grande successo l'anno scorso. Allora, pochi minuti, un paio, due, tre minuti, state lì, eh. Una presentazione, sai, faresti di tutto per averla. Guarda laggiù, dei segnali di fumo. Fammi leggere, Johnny. Leggi. La magia di un'epoca, rivive nel boom. Grandi canzoni, grandi vedette, ma tutto dal vivo. Teo Teocoli, con la partecipazione di Gene Gnocchi. Scusa! E Simona Ventura. Il boom esplode il sabato alle 20.40 su Canal 5. Ehi, ma questo è estate. È proprio estate. Andiamo! Si sente quando è estate, perché ha un gusto irresistibile. Che magia! Si sente quando è estate. Dior Svelte, un complesso regolatore unico che attiva un processo cosmetico anticellulite spettacolare. Testati sotto controllo medico, i risultati sono eccezionali. La silhouette è trasformata. Nove consumatrici su dieci sono soddisfatte. Dior Svelte, la rivoluzione anticellulite. Nasce il nuovo Daily Iveco. Venite a scoprirlo sabato 18 e domenica 19 nelle concessionarie Iveco. Bruciore di stomaco. Ollo bollito. Pesantezza e nausea. Dere dure elixie. Acidità. E sceglie. Digestivo Giuliani. Prima non c'era, adesso c'è. Digestivo Giuliani. A base di Don Peridone. Libera rapidamente lo stomaco senza problemi. È un medicinale leggere attentamente il foglio di luce. Se il sintomo persiste, consultare il medico. Nel suillo di fiorucci. Ditemi, che c'è? C'è maiale, maiale, ya, 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 ya. Solo carne di suino magro senza polifosfati aggiunti. Chia, ya, ya, ya. Tranquillo. È suo illo. Garantisce fiorucci. Se dico Nutella, lei cosa dice? Ah, Nutella. L'altra notte, sapete, mi era venuta voglia di Nutella. In quel momento, rientra mio figlio. Beh? Beh? Non volevamo svegliare nessuno. E invece... Che bello! È già ora di colazione. Eh sì, è stata una colazione davvero speciale, perché Nutella è così, sempre un po' speciale. Che mondo sarebbe senza Nutella?